occupazione turismo elezioni ma anche soprattutto sanità si è parlato di tutto questo durante la visita che circoli cittadini di alleanza nazionale hanno organizzato questa mattina invitando l'onorevole giulio conti candidato al senato per il partito delle libertà serve una spinta verso lo sviluppo territoriale hanno gridato in coro i presenti all'incontro benito rossi del circolo di portodascoli ha messo in evidenza il problema sanitario riviera il nostro ospedale a dir poco penalizzato ma anche il mozzoni di ascoli non se la passa bene secondo l'esponente di an gli organismi non riescono a coprire le esigenze della cittadinanza siamo impantanati e sovrastati dai debiti ha detto la qualità c'è ma va migliorata la colpa dei tanti rossi è da affibbiare ai vertici regionali di promesse in tutti questi anni ne abbiamo viste tante questa sinistra centrosinistra ha governato questa tutti gli eventi della sanità ora è tempo di fare un bilancio cioè se c'è stato diciamo un ci sono stati grossi errori sono stati dei fallimenti è bene che i cittadini ne prendano diciamo consapevolezza e quindi cambino si è nominato spesso l'ancona centrismo ossia il monopolio del capoluogo marchigiano nelle scelte politiche ed economiche che investono tutta la regione l'onorevole conti lo ha definito un vecchio scandalo ed ha proposto di depenalizzare le regioni di quei poteri conferitegli con la modifica dell'articolo 5 della costituzione è inammissibile dice conti che sia l'assessore a scegliere i primari la sanità è una è una delega che ha la regione una delega quasi totalitaria quindi decidono loro sulla sanità al 90 per cento il resto è quello che deciderò ma cioè quasi nulla roma fa le leggi la regione le applica ma non le non le replica le applica quindi le applica facendo le leggi apposta e cambiando tutto quello che vuole il caso classico di ancona che si è presa tutto quindi la sanità è diventata anconetana con una con una parte di deleghe date e di concessioni date a pesaro quindi anche una scelta di natura politica infine non potevano mancare accenni alle imminenti elezioni politiche nazionali conti si dice fiducioso soprattutto dopo la scelta di casini di correre da solo l'udc potrebbe avere un crollo ha detto l'onorevole è un partito in calo e di suoi voti sono liberi voti che conti spera tornino a casa ossia proprio nel partito delle libertà